Nel 1984 l'Associazione Florispettacolo rilancia il Carnevale a Floridia. Sono passati 40 anni, ma vale tutta ricordare gli anni d'oro del Carnevale floridiano. E lo facciamo con l'allora presidente della Florispettacolo, Salvatore Mangiafico. Mi piace ricordare quei momenti dove eravamo tutti giovani e in effetti anche perché abbiamo dato una spinta nuova al Carnevale che all'epoca era ridotto a gavettoni, a lanci di uova e borotalco. E quindi l'esigenza che abbiamo noi giovani all'epoca, tutti più o meno ventenni, era quella di divertirci ma senza fare danno. Ci siamo riuniti, praticamente eravamo tutti in piazza, diciamo ma dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo fare qualcosa. Eravamo animati tutti da buoni propositi, però praticamente ci veniva difficile iniziare. Siamo andati al Comune, all'epoca c'era il sindaco, se non ricordo male, Biagio Cantone. E praticamente noi tutti giovani, ventenni, siamo andati lì e abbiamo detto abbiamo in programma di fare il Carnevale. E ci hanno detto niente, voi o vi costituite in associazione, in qualche cosa, perché se no non potete fare niente. Effettivamente siamo andati dal notaio il 26 gennaio, quindi 40 anni fa precisamente, ma all'epoca stanziarono 2 milioni, che 2 milioni voglio dire erano niente. E noi invece che cosa abbiamo fatto? Siamo andati in giro a cercare soldi. E mi ricordo che il cavaliere De Luca all'epoca ci fece un'elargizione di un milione di lire, che all'epoca milioni di lire era una buona somma, tant'è che ci permise a noi di andare ad Avola a comprare dei pupazzi. Pupazzi che avete utilizzato come struttura portante e poi avete fatto le modifiche. Certo, perché noi addirittura dove li abbiamo portati questi pupazzi? Non avevamo un luogo, perché eravamo tutti giovani. Il Comune ci ha concesso il macello comunale. Di notte c'erano i maiali nella stanza accanto, sono passati e ci hanno rotto questi pupazzi. Li abbiamo dovuto aggiustare, insomma, alcune peripezie di questo genere. Poi oltretutto abbiamo affittato i tubi innocenti per fare gli stand. Naturalmente eravate tutti, oltre che muniti di buona volontà, anche molti artigiani fra di voi. Altrimenti tutto questo sarebbe stato impossibile. Vogliamo fare qualche nome? Enzo Bazzano, Carmelo Gibilisco, c'era Rudy Baccetta, c'era Tano, Sebastiano Licata. Un pianto di caro, ora ci sono le figlie che sono molto impegnate anche nel carnevale. Lui addirittura aveva il trattore, fu uno dei primi a portare i carri e poi c'erano tanti altri. Partiamo praticamente con quattro carri per risvegliare l'atmosfera carnascialesca a Floridia. Ma poi, pian piano, se ne aggiungono tanti altri, sono tanti e belli. E c'è un momento di boom, un momento d'oro dei carri. E naturalmente prima non era competitivo, poi diventa competitivo. E non ha nulla da invidiare. Ad un certo punto, magari ora ci dice un po' la data, ai carnevali vicini di Palazzolo e Diavola, che allora erano comunque rinomati. Il primo anno, l'84, in effetti fu una sperimentazione. Nessuno credeva, tant'è che a sorpresa le persone, i floridiani, vedevano questi carri sfilare con alcune persone dietro. Poi, quindi, nell'anno appresso, quindi l'85 e l'86, sempre di più si sono aggregate altre persone che hanno fatto dei piccoli carri. Tant'è che nel 1988, nell'88 praticamente ci fu il boom, con tanti carri, tanti gruppi mascherati. All'epoca noi, che prima non c'era una competizione, eravamo solo noi che facevamo i carri, quindi... Nel Mice, nel 1988, addirittura anche il comune cominciò a mettere in bilancio dei soldi per il carnevale. All'epoca la Flore Spettacolo vinse sia il carro con Indietro Tutta e sia anche il gruppo mascherato, un gruppo mascherato di 50-60 elementi, che eravamo tutti noi. Indietro Tutta, l'indimenticabile Indietro Tutta. C'erano sul carro, ricordo, Tea, Pippo Santo. Sì, eravamo in tantissimi, addirittura tutti vestiti come in tutti quelli di Indietro Tutta. Ricordiamo che c'erano dei partecipanti che hanno firmato più di una volta i carnevali, quindi non so, la Marchesa, ora quelli che ricordo io. Quelli della stazione, Paolo Bazzano, i fratelli Bazzano. E poi ad esempio i gruppi, i gruppi famosi, storici, come quelli della Pantano. Quelli della Pantano hanno fatto sempre un bel gruppo, erano molto... Il liceo. Quelli del liceo, sì, 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 molti gruppi, ma numerosissimi. E facevano poi dei bei balli, delle belle coreografie in piazza. Ora, l'associazione è stata inserita nel libro d'onore di Floridia, con tutti i nomi, riferimenti e ringraziamenti. Una bellissima soddisfazione, no? Sì, sì, siamo orgogliosi di questo. Con grande mia soddisfazione ricordo anche che ora siamo su Tam Tam web, invece abbiamo parlato di tutto questo e di altro anche sul Tam Tam cartaceo. Ricordiamolo, editore Saglin Bene, facente parte dell'associazione Flori Spettacolo. Anche lui, io mi ricordo all'epoca, che già cominciava a avere l'idea della televisione. Stiamo parlando di 40 anni fa, quindi da questo punto di vista lui... Tutti i ragazzi dotati di grande volontà. Allora, stavamo dicendo che tu scrivi su Tam Tam cartaceo che ad un certo momento c'è il tramonto del Carnevale a Floridia. Che succede? Già nel 2004 io avevo notato che praticamente c'era una fase discendente di questa manifestazione che purtroppo se non viene alimentata sia da parte delle amministrazioni locali sia da parte anche dei giovani, perché quello che non si capisce, si deve dare sempre spazio ai giovani. Proprio ieri siamo andati a trovare nei cantieri i ragazzi che stanno lavorando ai carri e mi sono ricordato un pochettino di voi, perché alla fine sono con quattro carri. Quindi c'è speranza che si aumenti e comunque musica in piazza e quanto altro. Speriamo bene, speriamo che il Carnevale ci faccia ancora divertire. Noi ci siamo fatti una bella chiacchierata con Salvatore Mangiafico. Abbiamo fatto un po' di Floricordi sulla Florispettacolo. Facciamo un gioco di parole. Ti ringrazio e naturalmente diamo spazio ai giovani come dicevi tu e divertiamoci sempre se è possibile. Grazie, grazie a voi.